incredibile! o chiuderlo! 1...2... i due esseri stanno andando di santa ragione grande venimento qui trattante e campione WBernie ma no! ma c'è SL! si può stare a scappare la squadrifica non ci credo! i Black Palace contro Bernie attenzione! ma no! ma no! NCW ed Slecon si guardano ma Bernie è lì! oh oh! ed infatti dicono no! noi combattiamo contro il male ovvero contro Bernie! quando invece i male sono loro! che Bernie? sono troppi! sono in 4 contro 1! ma non è possibile! non è possibile! con queste immagini di un Bernier a terra devastato è davvero tutto l'appuntamento e alla prossima luce! luce! con sì! luce! che